Stai cercando una piccola tastiera MIDI che puoi portare con te sempre e ovunque e con cui viaggiare facilmente? Allora le tastiere MIDI a 25 tasti sono adatte a te e oggi esamineremo le migliori presenti sul mercato. Il nostro team di esperti ne ha testate diverse dozzine per compilare questa selezione che presenta la migliore tastiera MIDI a 25 tasti tra quelle più economiche, la tastiera MIDI a 25 tasti con il miglior rapporto qualità-prezzo e la tastiera MIDI a 25 tasti preferita dal nostro team. Iniziamo con la miglior tastiera MIDI a 25 tasti tra quelle più economiche dell'anno. Dobbiamo questo meraviglioso strumento alla HACAI. La MPK Mini MK2 offre un modello leggero di soli 750 grammi. La MPK Mini MK2 ha 25 tasti sensibili alla velocità e un'interfaccia piuttosto completa rispetto alle sue dimensioni, con non meno di 8 pad di performance MPC retroilluminati, tutti sensibili alla velocità con ripetizione delle note. Essendo disponibile in due banchi separati, godrai di un totale di 16 pad. Include anche 8 pot che puoi usare per mixare e configurare plug-in senza dover passare attraverso il computer. Una caratteristica molto pratica e unica. L'incredibile joystick a quattro direzioni, posto in alto a sinistra della tastiera, assume le funzioni delle tradizionali rotelle di pitch band e modulazione con una precisione sorprendente per il dispositivo. Per una maggiore modulazione, la tastiera dispone anche di un ingresso per pedale sustain sul retro. Questa piccola Mini Akai MPK è alimentata tramite USB, un'altra prova della professionalità dell'Akai nel renderla pratica e facile da trasportare. Questo è probabilmente il suo principale punto di forza, poiché il suo design compatto è chiaramente orientato all'uso nomade. Dal punto di vista della produzione, questa tastiera mette la leggerezza al di sopra della forza. I pad e i potenziometri sono ben progettati e relativamente solidi, tuttavia ti consigliamo di utilizzarli con cura e riporli in un luogo sicuro per evitare danni. Infine, per quanto riguarda le interfacce software, con l'acquisto vengono fornite le iBeard 3 della Air Music Tech, Sony Vox Wobble e Akai Pro MPC Essentials, sicuramente un'aggiunta particolarmente apprezzabile. Per riassumere, l'Akai offre un'ottima tastiera MIDI a 25 tasti per i musicisti nomadi. La MPK Mini MK2 è uno strumento compatto e completo che ti permetterà di comporre direttamente dalla tua camera d'albergo, da una piscina o anche in mezzo a una montagna se lo desideri. Il suo prezzo conveniente, a poco meno di 80 euro, la rende una buona scelta per i principianti che cercano una piccola tastiera tascabile. Proseguiamo con la tastiera MIDI a 25 tasti con il miglior rapporto qualità-prezzo della nostra top 3 di questa settimana. L'Arturia Mini Lab MK2, che racchiude una serie di funzionalità in un pratico formato mini. L'Arturia Mini Lab MK2 dispone di una comoda tastiera, piacevoli touchpad e molti plug-in inclusi nei software, tutti forniti gratuitamente. L'Arturia offre un'ottima tastiera master, molto economica rispetto alla qualità del suo dispositivo. La Mini Lab MK2 dispone di 25 tasti sensibili alla velocità dotati di tecnologia after-touch. Sebbene i tasti siano piccoli, offrono un vero comfort di suono. La matrice è composta da 16 pad rotanti, super reattivi e precisi e 8 pad di performance retroilluminati, anch'essi sensibili alla velocità, che daranno animo alla tua esperienza di suono. Notare che questi pad sono disponibili in due banchi, in modo da ottenere un totale di 16 pad assegnabili. Questa volta non vi sono manopole o joystick per le funzioni di pitch band e modulazione. Invece ci sono due strisce tattili, che possono creare confusione se sei abituato alle manopole. Tuttavia, dobbiamo ammettere che sono davvero ben pensate. Il pitch band impiega un po' di tempo per tornare in posizione, per simulare l'effetto della rotella. Molto convincente. Per quanto riguarda le connessioni, è possibile alimentare la tastiera tramite la porta USB, ma anche collegare un pedale sustain grazie al suo ingresso posto di lato. Piccolo ma robusto. Questo è ciò che meglio definisce la costruzione del Mini Lab. Sebbene l'alloggiamento sia in plastica, è solida e professionale. La tastiera è leggera, ma abbastanza pesante da non avere il timore di romperla al minimo urto. Quando acquisti questa tastiera, sarai in grado di scaricare gratuitamente i software Ableton Live Lite, UV Grand Piano e Analog Lab Lite, che ti danno accesso a una galleria di oltre 500 suoni per iniziare a divertirti a basso prezzo. L'Arturia commercializza una tastiera master di qualità a 25 tasti con la Mini Lab MK2. Leggera e con un'esperienza di suono confortevole e un'ampia gamma di suoni e funzionalità, sarà perfetta sia per i principianti che per i produttori più esperti. Considerando tutte le sue qualità e caratteristiche costruttive, è uno strumento dall'incredibile rapporto qualità-prezzo, che consigliamo senza la minima esitazione. Finiamo la nostra top 3 con la tastiera MIDI a 25 tasti, che a nostro avviso è la migliore e più apprezzata del momento, la famosa Novation Impulse 25. Il versatile controller MIDI a 25 tasti della Novation troverà senza dubbio il suo posto in qualsiasi home studio grazie alla gamma completa di funzioni che lo rendono una tastiera completa e facile da usare. Cominciamo guardando il dispositivo stesso. L'Impulse 25, come suggerisce il nome, ha 25 tasti semi-pesati con aftertouch. Ci sono anche 8 pad di performance retroilluminati, 8 potenziometri rotanti, 6 manopole di trasporto e un fader da 55 mm, tutti di buona qualità con un'ottima resistenza e precisione. Sul lato sinistro della tastiera ci sono le classiche rotelle di pitch band e di modulazione, che è abbastanza sorprendente su una tastiera di queste dimensioni, ma molto apprezzabile. Oltre a tutto ciò, la Novation Impulse 25 offre funzioni a cui è possibile accedere direttamente tramite il dispositivo. Questi includono due pulsanti di ottava che consentono di estendere la gamma del controller, nonché un pulsante per un comodo arpeggio. Il display LCD ti consente di accedere ai vari suoni e plug-in, direttamente tramite la tastiera, il che ti rende meno dipendente dal computer per suonare. La tastiera deve essere alimentata tramite USB. C'è anche un ingresso per pedale sustain, un ingresso per pedale di espressione e un ingresso in uscita MIDI sul retro del case, il che rende la sua connettività incredibilmente completa rispetto ad altre tastiere di dimensioni simili presenti sul mercato. La costruzione è ben fatta e la fattura è solida. Con un peso di circa 3,5 kg, puoi trasportarlo facilmente in uno zaino se necessario. L'interfaccia è progettata per semplificare la registrazione e l'editing della musica. È possibile accedere alla maggior parte delle funzioni di base del software direttamente dalla tastiera. Per quanto riguarda i software, la tastiera include Automap Control X-Sight Plus e Ableton Live Lite. Ciò significa che sarai in grado di affrontarlo direttamente senza dover acquistare software professionale se sei un principiante. In conclusione, l'Impulse 25 è un ottimo controller MIDI. La tastiera consente una piacevole esperienza di suono e i pad hanno un tocco piacevole. Sarà perfetto per l'utilizzo in home studio, ma anche per alcune esibizioni dal vivo. Nonostante la qualità della tastiera e le tante funzionalità che offre, il prezzo rimane molto contenuto, motivo per cui non possiamo che consigliarlo. Rivediamo le caratteristiche principali di queste tastiere master a 25 tasti presentate in questa top 3. La KAI MPK Mini MK2 è una tastiera MIDI a 25 tasti per i nomadi del suono che vogliono avere la libertà di comporre ovunque. La sua leggerezza e il prezzo contenuto lo rendono uno strumento eccellente da portare in ogni luogo. L'Arturia Mini Lab MK2 è una tastiera MIDI a 25 tasti con 8 pad in due banchi. Comoda per suonare e comporre, è un ottimo alleato per tutti i produttori musicali e, senza dubbio, troverà facilmente posto in qualsiasi home studio. La Novation ci vizia con la sua Impulse 25, una tastiera MIDI a 25 tasti, completa e compatta, che offre un'ampia gamma di funzioni, ma soprattutto un set di connettori molto completo. È un livello di fattura eccezionalmente buono. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti e di attivare la campanella per rimanere informato non appena ne verrà pubblicato un altro. Non esitare a mettere mi piace, condividere il video e integrare nei commenti. Ci auguriamo che questo video ti abbia aiutato a prendere una decisione. Tutti i link alle schede del prodotto sono disponibili in descrizione. A presto per una nuova top 3. Un saluto da Shoppedia. Ciao! Ciao!